Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Minaccia aggredisce la compagna un marinaio 44enne finisce agli arresti domiciliari Difidare degli sconosciuti presentato un va de mecon con semplici regole per prevenire le truffe ai danni degli anziani Giancarlo Danna chiede a Minardi di non dimettersi da Presidente del Consiglio Comunale se resta al suo posto si risparmiranno molti soldi Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia apriamo questa edizione con un episodio di violenza domestica un marinaio è stato arrestato dai carabinieri di Fano per episodi di maltrattamenti in famiglia vediamo il servizio di Simona Zonghetti Ancora donne vittime protagoniste di maltrattamenti in tempi di quotidiana cronaca nera continuano ad essere registrate forme di violenza fisica o psicologica è successo anche nella città della Fortuna dove due fanesi un marinaio 44enne un'impegata di 51 anni hanno vissuto da sempre la loro relazione con continui alti e bassi la decisione di andare a convivere poi non ha migliorato la qualità del rapporto le discussioni infatti si trasformavano spesso in litigi e talvolta degeneravano in violenze fisiche ma nel marzo 2015 la donna ha deciso finalmente di chiamare i carabinieri accompagnata al pronto soccorso è stata curata e dimessa con una prognosi di 30 giorni l'uomo gli aveva provocato un trauma cranico ematomi al volto la frattura di due costole e nonché ferite varie alle gambe durante la denuncia ha riferito inoltre ai militari di innumerevoli episodi pregressi mai denunciati due mesi dopo la stesura dell'atto l'autorità giudiziaria ha emesso nei confronti del marinaio un primo provvedimento di divieto di avvicinarsi alla vittima purtroppo però non ha ottenuto gli effetti sperati lui continuava a violare gli obblighi provocando la compagna stati di ansia e profondo sconforto fiduciosa si è rivolta di nuove carabiniere ai quali ha raccontato il comportamento minaccioso e molesto del 44enne all'ennesima segnalazione l'autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento maggiormente afflittivo disponendo la sottoposizione agli arresti domiciliari nei confronti dell'uomo i militari della stazione di Fanno hanno dato esecuzione al provvedimento così è stato tratto in arresto e condotto nella sua abitazione agli arresti domiciliari una bambina di Serrungarina è stata ricoverata all'ospedale pediatrico Salisi di Ancona per ferite riportate in uno scontro frontale accaduto domenica scorsa lungo la strada statale 16 a Torrette di Fano la bimba e il fratellino di 4 anni in auto con il padre e la sua compagna erano seduti sul sedile posteriore del mezzo sul quale viaggiavano quando nell'urto con un'altra autovettura sono stati catapultati in avanti sbattendo contro i sedili anteriori una volta trasportati da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso del Santa Croce è stato deciso di trasferire la piccola al nosocomio d'orico in seguito a uno stato soporifero il padre che era alla guida ha riportato diverse ferite agli arti inferiori conseguenze meno gravi invece per il bambino e adesso parliamo di truffe perché la confartigianato ha presentato in prefettura a Pesaro un vademecum sulla sicurezza per gli anziani si tratta di semplici regole di comportamento suggerite dalle forze di polizia per evitare di finire nelle mali di malintenzionati vediamo come fare molte volte la sicurezza degli anziani viene messa a repentaglio dall'azione dei malfattori che approfittano della buona fede delle persone con l'obiettivo di prevenire e ridurre al minimo gli episodi di truffa è stato presentato in prefettura a Pesaro un vademecum sulla sicurezza un progetto che rientra nella campagna denominata più sicuri insieme ideata dalla Confartigianato Nazionale e organizzata dall'ANAP Confartigianato Persone dal Ministero dell'Interno con il contributo della Polizia di Stato dei Carabinieri e della Guardia di Finanza formate a qualche anno sono sempre più indirizzate verso questa fascia d'età e sono in aumento o in crescita? purtroppo sono in aumento e quello che preoccupa è che molte delle truffe non vengono denunciate la campagna serve anche per questo un appello agli anziani a tutti gli italiani a tutti i cittadini questi opuscoli contengono semplici regole di comportamento suggerita agli anziani dalle forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa in banca per strada sui mezzi di trasporto e nei luoghi pubblici ed ecco alcuni consigli porta con te solo il denaro indispensabile non andare in banca negli orari di punta e se possibile chiedi ad un parente di accompagnarti non tenere il portafogli nelle tasche posteriori e tieni la borsa ben stretta davanti fai attenzione a chi si rende disponibile ad aiutarti quando ad esempio hai una gomma bucata o ti contesta un danno subito come uno specchietto rotto o un danno alla carrozzeria nel dubbio allerta le forze di polizia non farti distrarre da chi ti avvicina chiedendoti di pagare un debito contratto da un tuo parente non consegnargli per nessun motivo il denaro quando rientri a casa poi stai attento che nessuno ti segua chiudi la porta e non lasciare le chiavi nella serratura non aprire né agli sconosciuti né agli appartenenti alle forze di polizia se non sei sicuro della loro identità nel dubbio contatta i numeri di emergenza il principale suggerimento è quello di diffidare diffidare continuamente non assecondare nessun tipo di richiesta anche formulata in maniera affabile e suadente e soprattutto non credere mai a nessun tipo di inviato né di enti preposti ai servizi pubblici né di uffici postali né di altre organizzazioni che assolutamente non agiscono con personale sul territorio fondamentali sono le denunce ha proseguito il perfetto ma a volte si avvergogna nel rivelare di essere stati truffati queste difficoltà psicologiche a detto vanno superate affinché questo fenomeno ad oggi in crescita possa essere ridotto o addirittura eliminato quanti sono gli iscritti qua a livello locale? Allora nella provincia di Ancona abbiamo oltre 8.500 iscritti mentre nella provincia di Piesaro Ruppino 3.500 iscritti perciò credo che sia insieme un grosso numero che rappresenta diciamo una gran massa di persone Buone notizie per quanti hanno subito danneggiamenti a causa del maltempo sì perché il governo ha stanziato 18 milioni di euro per la regione Marche per i danni subiti dall'ondata di maltempo del 4-6 marzo scorso un provvedimento importante ha commentato soddisfatto Ceriscioli che valutiamo positivamente sia per l'entità dello stanziamento che per la velocità di risposta rispetto alle esigenze dei territori duramente colpiti un atto che dimostra l'attenzione dell'esecutivo nazionale verso la nostra regione ora nel più breve tempo possibile questi fondi dovranno essere distribuiti tra gli enti locali che ne hanno fatto richiesta ed essere investiti per mettere in sicurezza le aree colpite e a rischio dissesto idrogeologico un'isola ecologica è stata trasformata in una discarica a cielo aperto e quanto sta accadendo ormai da diversi giorni in via degli uscenti a Fano un nostro telespettatore lamenta il fatto che nonostante l'ASET venga a ritirare il materiale qualche cittadino continui a non rispettare le norme abbandonando rifiuti tra questi scatoloni diversi cuscini capi di abbigliamento destersivi eppure un diluente per vernici veramente di tutto e allora il quartiere fieristico di Campanara ospiterà dal 3 luglio il primo meeting nazionale degli agibilitatori cioè quei tecnici che in modo volontario prestano aiuto in occasione di eventi sismici vediamo di che cosa si occupano un appuntamento di assoluto rilievo per fare il punto sulle politiche di prevenzione in un paese dove c'è ancora molto da fare in materia di sicurezza sismica e di sesto idrogeologico si tratta del primo meeting nazionale degli agibilitatori che si terrà il prossimo 3 luglio a Pesaro nel quartiere feristico di Campanara si riuniranno quindi quei tecnici che prestano la loro opera qualificata in modo volontario e gratuito in occasione di eventi sismici e non solo gli agibilitatori sono degli ingegneri formati proprio per l'emergenza cioè in caso di terremoto quindi o in caso di alluvione si sta facendo la stessa cosa il professionista è questo che è importante in mezz'ora deve decidere se quell'edificio è agibile o no perché rispetto a quello che lui scrive riempendo una semplice scheda molte volte poi derivano i finanziamenti per i danni ricevuti il meeting è promosso dalla federazione regionale degli ordini degli ingegneri delle marche e dal consiglio nazionale degli ingegneri in coordinamento con la protezione civile nazionale è stato presentato a Pesaro nel corso di una conferenza stampa si svolge nelle marche perché le marche hanno avuto un ruolo importante nella gestione delle ultime due importanti emergenze sismiche il terremoto dell'Aquila e il terremoto dell'Emilia Romagna all'Aquila abbiamo dato un contributo come ingegneri professionisti portando sul campo 1500 colleghi numeri importantissimi che sono indispensabili per poter in tempi rapidi far rientrare le persone nelle proprie abitazioni in Emilia Romagna abbiamo avuto la possibilità di gestire direttamente 563 colleghi ingegneri che sono stati sul campo per circa due mesi e mezzo appena dopo l'evento appunto dell'Emilia Romagna da qui i corsi di formazione specifici che hanno permesso di creare una task force che attualmente conta 350 ingegneri in tutta la regione si tratta in percentuale del numero più alto a livello nazionale io penso e spero vivamente che la possibilità di dibattere i problemi degli agibilitatori dei colleghi che fanno volontariamente appunto questa iniziativa possa allarcare l'interesse da parte di altri colleghi in modo tale che essi siano i più numerosi possibili apriamo la pagina della politica il presidente della camera di commercio pesarese Alberto Drudi è intervenuti sugli obiettivi del neopresidente della regione Marche Luca Ceriscioli sul fronte del sostegno all'economia il programma è concreto e condivisibile ha detto Drudi Ceriscioli è una persona pragmatica prima di essere un politico che ama il fare rispetto agli annunci economia e lavoro dunque saranno le priorità dell'azione di governo sua e della sua giunta per quanto riguarda la camera di commercio di Pesaro Urbino ha concluso troverà il massimo della disponibilità e dell'impegno si è riunito ieri sera il consiglio comunale di Fano per discutere sul bilancio di previsione nella seduta preseguita fino alle ore 2.30 del mattino sono stati oltre mille gli ammendamenti presentati soltanto sette dell'opposizione quelli discussi ma nessuno di questi è stato approvato l'assessore al bilancio Cecchetelli durante l'illustrazione del bilancio ha dichiarato che ci sono pochi margini per intervenire a tal proposito un suggerimento l'ha indicato Giancarlo Danna il consigliere comunale chiede a Renato Claudio Minardi di rimanere a fare il presidente del consiglio comunale e sentite il perché nella sua dichiarazione Minardi rimanga presidente del consiglio comunale di Fano si risparmierebbero decine di migliaia di euro a lanciare l'appello è il consigliere Giancarlo Danna che dà un suggerimento su come poter risparmiare una cifra importante e allo stesso tempo investirla sulle tante emergenze cittadine sarebbe un bel segnale addetto e un ottimo risultato la legge non vieta a un consigliere regionale di rimanere consigliere comunale o presidente del consiglio l'unica incompatibilità che è prevista dalla legge è quella del cumulo degli stipendi siccome c'è già un precedente nella fattispecie ad Ascoli Piceno dove un consigliere regionale era allo stesso tempo anche presidente del consiglio comunale di Ascoli la legge appunto prevede che si possano mantenere due cariche rinunciando a uno dei due stipendi si risparmierebbero alla comunità se Renato Claudio Minardi rimanesse presidente del consiglio parecchie decine di migliaia di euro che nell'arco di quattro anni sicuramente fanno una cifra molto importante che può essere utilizzata per le varie emergenze che ci sono in città quindi credo che sia una proposta ragionevole quello che manca è solo l'adesione a questa proposta dell'attuale presidente del consiglio e del partito che rappresenta d'altra parte Minardi che già dal 22 giugno scorso non percepisce l'indennità afferma che per rispetto degli elettori intende dedicarsi esclusivamente alla nuova carica in regione per rispetto agli elettori che hanno visto in me la competenza la serietà e la determinazione per portare la loro voce in regione che non è solo uno slogan elettorale ma la realtà dei fatti ritengo doveroso occupare solo questa carica anche perché entrambi i ruoli richiedono tanto lavoro e richiedono quindi impegno a tempo pieno sarebbe un errore e anche quindi non giusto ricoprire entrambe le cariche anche rispetto agli impegni presi durante la campagna elettorale ringrazio il consigliere comunale Danna segno questo che appretta il mio lavoro ma sono due ruoli che ritengo non possano essere sovrapposti e non possano essere cumulabili ed ora occupiamoci di lavori in ambito pubblico nella nostra città a causa dei lavori conclusivi di bonifica della rete idrica giovedì 2 luglio dalle ore 8.30 alle ore 13 verrà temporaneamente sospeso il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in diverse vie fanesi quali sono quelle interessate adesso lo vediamo sono via Boldrini via Manara via Mazzolari via Fabri via Brunetti via Tazzoli e via Poma nelle vie limitrofe invece si potrà avere un calo di pressione la regione Marche autorizza il prelievo in deroga dello storno e del piccione domestico per prevenire i gravi danni all'agricoltura causati da questi volateli le specie saranno cacciabili nel giorno di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 29 novembre 2015 complessivamente sono 92 i comuni delle 5 province interessati dal provvedimento per quanto riguarda lo storno mentre per il piccione sarà cacciabile nei territori delle province di Pesaro e Urbino Ancona Macerata e Fermo cultura Vittorio Sgarbi inaugurerà il gusto della scienza una rassegna di appuntamenti che prenderanno il via sabato prossimo al museo del Bali vediamo di che cosa si tratta luce, armonia buio e caos questi temi delle quattro serate organizzate nel mese di luglio al museo del Bali nell'ambito della rassegna il gusto della scienza la manifestazione vedrà come protagonisti grandi ospiti della cultura della musica e dello spettacolo l'idea nasce assolutamente da una convinzione che questo museo deve sempre di più aprirsi a quelli che io chiamo e definisco gli utenti generici oggi noi abbiamo il core business che è dettato assolutamente dal mondo scolastico e tale dovrà rimanere però ecco nell'immaginario collettivo dobbiamo far percepire e capire che questo museo può essere intrigante interessante per un pubblico che non è praticamente scolastico le serate che prenderanno il via sabato 4 luglio prevedono anche una cena con prodotti tipici locali e vini abbinati il costo dell'intera serata e quindi cena più spettacolo andrà dai 25 ai 30 euro ma sarà obbligatoria la prenotazione mandando una mail a infochiocciolamuseodelbali.it oppure telefonando allo 0721 89 23 90 i più piccoli sotto i 3 anni saranno ospiti mentre per i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni il prezzo sarà di 20 euro il secondo figlio non paga 10 euro invece la cifra per poter assistere soltanto allo spettacolo che avrà inizio intorno alle ore 22 graditissimo ospite che inaugurerà la serata sarà il professor Vittorio Sgarbi che ci parlerà della luce nei dipinti quindi dell'impatto emotivo della luce nei dipinti e poi si seguiranno i prossimi successivi sabati con Armonia il tema della successiva serata il buio sul risparmio energetico con graditissimo ospite invece il giornalista Matteo Viviani giornalista delle Iene che ci parlerà di risparmio energetico quindi toccherà questo tema di impatto sociale naturalmente con il suo solito brio e destro e poi alla fine chiuderà la rassegna il tema caos qui sarà una bellissima sorpresa quindi lasciamo un po' lasciamo in sospeso questa serata in caso di pioggia le serate in programma saranno annullate o rinviate in data da destinarsi rimaniamo sulla pagina degli eventi è stata presentata nella sala della concordia del comune di Fano la manifestazione musica a corte il primo concerto si svolgerà venerdì 3 luglio alle ore 21 e 15 con l'opera e donna un appuntamento pensato per la notte rosa e la storica lirica sotto le stelle proseguiranno poi le serate dell'11 e del 19 luglio novità di questa edizione sarà il trasferimento dalla corte malatestiana al Sant'Arcangelo e tutte le info riguardanti questa bella manifestazione sono presenti sul nostro sito internet come del resto tutti i servizi che avete visto qui in questa edizione del telegiornale che chiudiamo qui con quest'ultima notizia di cultura e di musica naturalmente domani Occhio alla Notizia tornerà alle 20 e 30 come sempre ma l'appuntamento è anche per l'informazione domani mattina alle 7 e 30 con Occhio ai giornali grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento grazie per essere stati